Quando accendo una radio mi viene i brividi, specialmente quando è riparato che lo sento parlare, sono nella luna della contentezza, perché si ripensa sempre al passato, cose che si amano, si vogliano bene, c'è un certo lavoro, però io lo faccio volentieri perché è la mia passione e mi ci diverto. Con il volto semicoperto dalla mascherina, gli occhi lucenti di Osvaldo Solari raccontano una storia di passione, quella per le radio d'epoca che nelle sue mani riprendono letteralmente vita. Una passione per la lavorazione del legno cominciata da ragazzo, Osvaldo ha imparato il mestiere sistemando i carri, passando poi al restauro e quindi alle banisteria ed infine al recupero delle radio. Conoscendo degli amici avevano bisogno di riparare la radio, sono venuto da me, io facevo tutti gli chassis, tutte le casse, poi piano 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 e ho preso passione e ho continuato, continuo e per me è l'unica cosa che rinuncerò nella mia vita. Negli anni ne ha restaurate oltre 300 e tante altre sistemate in una stanza di casa aspettano pazientemente il loro turno. Io quando prendo questa radio deve ritornare nuovo e la mia soddisfazione è quella, è come se dovessi salvare un bambino, per me la radio è come un bambino, io l'abbraccio, io ci ragiono col mio pensiero. Il laboratorio di Capostrada alle porte di Pistoia dove questo artigiano oggi in pensione lavora all'interno dal canto di decine di uccellini è uno scrigno di curiosità e piccoli tesori. Il mio giorno lavorativo inizia dalle otto all'una, dalle quattro all'otto e mezzo, poi mangio, vuole la televisione e fino alle due, le tre, le quattro io sto sempre qui dentro, tutte le sere. Spera di tramandare la sua arte a qualcuno? Io penserei sì, la mia nipotina e il mio gioiello, poi ho due nipoti e il solito gioiello è uno più bello di l'altro, spero che un giorno si mettano con me quando cominceranno a capire qualche cosa a insegnarli.